Il Parco archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno annunciato il rinvenimento di un nuovo reparto straordinario emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana a nord di Pompei, oltre le mure della città antica nell'ambito delle attività congiunta avviata nel 2017 e alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2019 finalizzate al contrasto delle attività illecite ad opera di clandestini nell'area. Un grande carro cerimoniale a quattro ruote con i suoi elementi di ferro, le bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti linei mineralizzati, le impronte degli elementi organici, dalle corde a resti di decorazioni vegetali, è stato rinvenuto quasi integro nel porticato a distante alla stalla dove già nel 2018 furono ritrovati importanti reperti. Un ritrovamento eccezionale non solo perché aggiunge un elemento in più alla storia della dimora, al racconto degli ultimi istanti di vita di chi abitava la villa e in più in generale alla conoscenza del mondo antico, ma soprattutto perché restituisce un reperto unico, mai finora rinvenuto in Italia, in ottimo stato di conservazione. Il progetto di scavo in corso ha una duplice finalità, da un lato cooperare nelle indagini con la procura di Torre Annunziata per arrestare il depravadamento del patrimonio culturale ad opera dei clandestini che nella zona avevano praticato diversi cunicoli per intercettare tesori archeologici, dall'altro portare alla luce e salvare dall'azione di saccheggio una delle ville più significative del territorio vesuviano.